Buonasera, buonasera a tutti. Siamo arrivati al nuovo spazio di Sofia Excursus Cultura e Società e bene l'avete visto che si sta avvicinando il momento, abbiamo un ospite davvero eccezionale quest'anno a Sofia. Il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri che sarà intervistato dal giornalista e regista Massimiliano Montefameglio che per ben nove anni ha curato i programmi e ha lavorato con le redazioni delle più importanti testate nazionali. Nicola Gratteri, già protagonista della lotta alla mafia, è sottoscorta dal 1989, è uno dei magistrati più conosciuti della direzione distrattuale antimafia. Nel 2014 è stato nominato presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta alle mafie. Il 21 aprile del 2016 il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura lo nomina a larga maggioranza procuratore della Repubblica di Catanzaro. Oggi ha accettato e per noi è davvero un grande onore, ha accettato il nostro invito ed è con noi per l'incontro dal titolo La Mafia, il potere, la storia. Diamo il benvenuto a Sofia 2019 al magistrato. Nicola Gratteri. Dottor Gratteri, buonasera, ben arrivato a Pietrasanta. Vorrei fare un ringraziamento pubblico, veramente di cuore al dottor Gratteri che oggi ci ha raggiunto appositamente per essere a Sofia, ha accettato il nostro invito per incontrare il pubblico del Festival e i tantissimi ragazzi che ogni anno seguono la nostra manifestazione. Prima di cominciare il dottor Gratteri mi consentirà una cosa molto veloce, vorrei ringraziare tantissimo le forze dell'ordine che sono qui oggi, i crabinieri, i polizia di Stato, i vigili del fuoco, i vigili urbani, perché come sempre lavorano per tutti noi e ci assicurano la tranquillità quotidiana. Bene dottore, spero abbia fatto buon viaggio, benvenuto a Sofia. Ballavo un po' l'aereo però. Ah va bene, ok. Senta dottore, non si sente spesso parlare di andrangheta quanto di mafia, vedremo perché ci sono dei motivi precisi. L'incontro di oggi parte dal suo penultimo libro, perché poi martedì 19 uscirà il nuovo libro di cui poi parleremo, che è Storia segreta dell'andrangheta, una lunga oscura vicenda di sangue e potere, 1860-2018. È un libro che ripercorre in maniera molto precisa la nascita dell'andrangheta e anche il suo sviluppo che l'ha portata ad essere una delle organizzazioni più complesse e pericolose al mondo in assoluto. Io le chiederei se è d'accordo di iniziare proprio per chi non è pratico dell'argomento mafia e capire che cos'è l'andrangheta, di che cosa si occupa. L'andrangheta in questo momento è la mafia, sicuramente è la mafia più ricca in Italia e in Europa. I motivi per cui oggi parliamo di indrangheta sono diversi. Le concausa sono diverse, per cui una mafia arcaica fatta di picciotti, di rozzi, contadini, oggi dominano l'economia in Italia dal centro nord in Europa. Cosa è accaduto? Noi con il professore di caso abbiamo scritto 18 libri, è da 15 anni che scriviamo libri, però non eravamo mai riusciti a rispondere ad una domanda. Perché nel 1700, perché nell'800 in Europa c'erano i ladri di polli e perché poi questi ladri di polli in Italia sono diventate mafie, in Europa sono rimaste ladri di polli. E noi siamo partiti da una ricerca storica perché voi sapete ora che spesso, soprattutto dopo l'avvento di internet, si scrivono molti libri e molti libri sullo stesso argomento sono uguali, perché c'è il copia e il colla. Ogni tanto qualcuno viene condannato per aver copiato dei libri e moltissimi studenti fanno le tesi copiando, ma purtroppo ai noi anche i cosiddetti intellettuali o professori copiano. Questo è triste. A noi piace fare ricerca. L'idea di scrivere per la prima volta un libro, 15-16 anni fa, ci è venuta quando ho ascoltato un professore universitario, professore ordinario, che spiegava le mafie e per descrivere le mafie l'andrangheta utilizzava indifferentemente il termine locale e l'andrina, che sono due cose diverse, molto diverse. Per lui era la stessa cosa. Mi ricordo eravamo forse a Rimini, a Riccione, era una manifestazione importante. E io istintivamente lo guardo, lui anziché stare zitto, dice ma dottore perché lei mi guarda così? Dico poi le spiego. E le ho spiegato la differenza sostanzialmente tra l'andrina e il locale. Poi se vi interessa la parliamo più tardi. Perché ora mi interessa invece dirvi che le mafie esistono in Italia perché sostanzialmente nutrite o volute o create paradossalmente, non so se volontariamente o involontariamente, dalla classe dirigente. Vi spiego perché. Vi faccio degli esempi pratici. Noi partiamo da prima dell'unità d'Italia, durante il regime borbonico. Tutti gli oppositori politici venivano rinchiusi ad esempio nel carcere di Favignane, un'isola a ovest della Sicilia, guardando la Sicilia, provincia di Trapani. In questa isola di Favignane, in questo carcere, dove c'erano tantissimi dei tenuti politici, venivano mandati anche dei criminali campani, siciliani, calabresi. Ovviamente analfabeti, mentre i tenuti politici sarebbero a leggere e scrivere. Erano oppositori al regime borbonico. Questi criminali incominciano a vedere come modello i politici, i detenuti politici. Cioè incominciano a pensare, a capire loro come comunicavano. Comunicavano attraverso i pizzini. Comunicavano con il linguaggio cripto. Si davano, raccontavano delle storie, delle filastrocche. Anche la picciotteria, cioè la struttura arcaica embrionale dell'andrangheta, mutua questo linguaggio. Incomincia a mutuare questo linguaggio. E poi voi troverete, per chi è appassionato di studi di mafia, di indrangheta, camorra e cosa nostra, troverete dei termini uguali nelle tre organizzazioni criminali. E questo conferma l'inquinamento linguistico che è stato il termine picciotte, un termine che viene usato, è la prima dote all'interno dell'andrangheta. Quando io dico dote voi pensate grado. Perché in andrangheta non possono essere usati i termini che fanno riferimento alle forze dell'ordine. Quando io dico camorrista è la seconda dote dell'andrangheta ed è anche un termine usato nella camorra. Vi faccio un esempio. 1869. Elezioni comunali Reggio Calabria. Abbiamo due liste. Una capeggiata dai Borboni e dalla Chiesa, l'altra appoggiata dagli aristocratici, dai latifondisti, dalla classe dirigente. Cosa fanno i latifondisti? Pagano, assoldano dei picciotti per picchiare, vessare, terrorizzare non solo i candidati ma anche gli elettori. Allora era facile individuare, intercettare chi andava a votare perché votava solo il 2% della popolazione, solo gli elettori di sesso maschile che ho raggiunto la maggiorità. Ma sono stati tali e tanti i brogli, anche il questore dell'epoca, che aveva la possibilità di fare una carcerazione preventiva, cioè di chiudere sette giorni una persona in una cella per motivi di sicurezza. Quindi anche lui aveva contribuito a questo inquinamento del voto. Sono stati comunque tali e tanti i brogli che il prefetto dell'epoca nel 1869 ha annullato le elezioni per mafia. Quindi siamo nel 1869, prime elezioni annullate per mafia. Se voi andate a studiare tutti i terremoti, dal 1908 il primo terremoto, il più grande terremoto avvenuto in Italia tra Reggio e Messina dove sono porti 100.000 persone. 100.000. Oggi nei terremoti muoiono 50-60 persone e sembra la fine del mondo. Allora 100.000. Quindi voi immaginate Reggio Calabria e Messina rasa al suolo. C'era un grande movimento, una grande ribellione. Chi era rimasto viva aveva solo gli indumenti addosso, pieni di polvere strappati. E incominciavano a venire da Roma a fare visita, incominciavano a venire le autorità. E per risolvere l'emergenza, per calmare il popolo, fanno una legge sbagliata. Cioè stanziano 175 miliardi di lire per la ricostruzione di Reggio Calabria. Perché dico legge sbagliata? Perché loro hanno impostato leggi in questo modo. Chiunque ha avuto una casa distrutta, lo Stato dà a fondo perduto il 70%. Lui dice buono il 70%, è buono. Ma se io sopravvissuto, ho solo gli indumenti addosso, questo 30% dove lo prendo? Ci pensa la picciotteria. Già intanto mi sono dimenticato di dirvi che quando hanno soldato i picciotti c'era ad esempio tale Francesco De Stefano, avo degli attuali De Stefano. De Stefano era un ladro di polli, era stato arrestato per truffa, per furto, per spendita di monete false. Cosa si inventa la picciotteria? Si inventa un banco, si inventa la banca ad usura. Addirittura da New York vengono gli uomini della mano nera, cioè degli emigranti italiani andati a New York che fondono la mano nera, un'organizzazione criminale che taglieggiava gli emigranti italiani, tornano in Calabria per gestire, per concorrere a gestire questi 175 miliardi di lire. Quindi vedete la disattenzione, la non conoscenza, la superficialità, l'ignoranza di chi amministra o di chi gestisce il potere come, diciamo involontariamente, crea mostri, crea mostri. Se poi voi andate a studiare tutti i terremoti fino ad oggi, tranne quello avvenuto a Egemona del Friuli, sono stati tutti gestiti dalle mafie. Cambiano solo i percentuali, in poco assai. E allora, cosa è accaduto? Perché ho fatto quell'affermazione iniziale troppo forte? Perché se noi andiamo ad oggi, se noi vogliamo studiare gli ultimi decenni dell'Italia, vediamo un capovolgimento di fronti nel rapporto mafia-politica-politica-mafia. Troviamo un capovolgimento di fronti. Cioè, sostanzialmente, cosa vi sto per dire? Quando io ero ragazzo, io ero 61 anni, quando io avevo 15 anni, 20 anni, vedevo il capo mafia della zona davanti al suo avvocato, togliersi il cappello e fargli l'inchino. Il londranghietista, il mafioso, vedeva l'avvocato, vedeva l'interlocutore come una persona autorevole. E offriva voti. Quando il mafioso andava dal politico e chiedeva cosa? Il rinvio del militare per il figlio. Invece di fare il militare di mare, che durava un anno e mezzo, fare il militare di terra. Il posto di bidella per la vedova del figlio. Oggi cosa è accaduto? Oggi, negli ultimi decenni, cosa abbiamo? Abbiamo una politica molto debole. Abbiamo una politica non autorevole. Non abbiamo grandi statisti, tali che il popolo o le mafie possono capire che quello è un interlocutore autorevole. O non è un interlocutore. Quindi cosa sta accadendo? Sta accadendo sempre più che sono i candidati alle elezioni che vanno a casa dei mafiosi e chiedono pacchetti di voti in cambio di appalti. E questo, scusi dottore, fa ben capire quanto ormai sia radicata la mafia, in particolar modo l'andrangheta, sul territorio e come sia riuscita a soppiantare del tutto, quasi del tutto, la presenza dello Stato evolvendosi anche poi attraverso l'intercettazione degli appalti, attraverso lo spostamento di cifre multimiliardarie e quindi diventando di fatto lo Stato dove lo Stato forse non è mai stato presente, possiamo dire, fin dai tempi borbonici. Allora, per sintetizzare, il candidato politico sta sul campo, sta sul territorio, mediamente, 4-5 mesi prima delle elezioni. Il giorno delle elezioni, se va bene, cambia la scheda telefonica per non essere disturbato. Il capo mafia cosa fa? Il capo mafia è presente sul territorio 365 giorni l'anno. Da risposte distorte, da risposte sbagliate, da risposte clientelari, ti dà il pesce ma non ti dà la canna da pesca per creare sempre e comunque dipendenza ma comunque ti dà la risposta, comunque tu lo vedi, è un interlocutore, ti prende in giro, ti schiavizza, ti rende oggetto, ti rende servo ma parla con te. Il politico non lo vedi, non lo incontri, è assente, non dà risposta, non sa che risposte dare. Non è in grado di dare risposte, evidentemente. E allora man mano che c'è il vuoto della politica, quei vuoti li coprono le mafie. Quelle risposte viziate, parziali, li danno le mafie. E quindi dal punto di vista sostanzialmente c'è un crescendo, c'è un crescendo delle mafie. Perché cosa sta accadendo? Sta accadendo una convinzione strana dovuta, frutto dell'ignoranza collettiva. Perché noi pensiamo di essere istruiti perché ognuno di noi attraverso il telefonino si collega con internet. perché non ci fermiamo un attimo a fare la distinzione tra cultura, istruzione e informazione. Noi pensiamo di essere colti, ma non è vero. Perché noi mediamente non sappiamo scrivere in lingua italiana. Perché ci si laurea e io correggo errori di lingua italiana a laureati, a professionisti importanti. Io leggo errori di grammatica o di sintassi. Oppure leggo dieci righe senza un punto. Perché a scuola non si insegna più l'italiano, la storia, la geografia. a scuola non si studia più. Se uno ha la fortuna di trovare un insegnante antico nelle scuole mentale e scuole medie è fortunato perché saprà leggere e scrivere. Oggi i ragazzi non sanno scrivere in lingua italiana. Scrivono una lingua che è un'altra cosa. E poi non sono in grado di superare un concorso. seppur intelligenti non sono in grado di superare un concorso perché non sanno scrivere un tema. Soprono solo quei concorsi con i quiz. Ora perché mi sto allargando così? Per cercare di spiegare dal mio punto di vista perché oggi siamo a questo punto. Perché stiamo diventando sempre più l'Africa del Nord. Perché siamo più ignoranti. Cosa ci è rimasto? Cosa è rimasto all'Italia? Partite dal rinascimento. Fate una scorsa veloce. Da risorgimento ad oggi. Sapete da allora ad oggi cosa ci è rimasto? Ci è rimasto un'ultima cosa. Che ancora non sono riusciti a copiarci. Non so ancora per quanto. Perché i nostri licei perché il Politecnico di Torino di Milano è pieno di indiani di cinesi di russi di tedeschi di americani che stanno venendo in Italia per prenderci l'ultima cosa che abbiamo l'ultima cosa che ci è rimasta ci è rimasta è il gusto che è l'unica cosa che ancora non sono riuscito a copiare. Io per motivi di lavoro giro il mondo. Fra due giorni devo fra tre giorni parto per oltre oceano ogni mese e mezzo sono in America del Sud America Centrale America del Nord il mese scorso sono stato in Africa ho girato tutti i paesi d'Europa perché vi sto dicendo questo non sono un turista non sono mai andato in vacanza io quando mi sono sposato sono andato tre giorni in viaggio di nozze poi sono tornato sono tornato quindi ancora mia moglie mi erano in prova quindi non giro per vacanza giro per lavoro però ho le possibilità di guardare di capire di vedere gli altri e se voi girate l'Italia in qualsiasi punto d'Italia andate non c'è un posto dove si mangia male il mangiare bene il mangiare semplice non è il frutto non c'entra la ricchezza e la povertà c'entra il gusto i poveri quelli che si vestono al mercato sanno abbinare i colori anche se poveri anche se modesti hanno la loro dignità nel loro stile se voi andate in paesi ricchi gente ricchissima gli guardate i calzini gli vedete il fermacravatta d'oro e l'anello cioè è tutto un kitsch no? e da lì vi fa capire che non c'è tu puoi essere ricco ma ti manca il gusto e il gusto non lo puoi comprare quando noi quando noi entriamo nelle case dei capi mafia sono veramente degli imperi noi entriamo nelle case sono dei mobili costosissimi ma nella stessa stanza trovate un mobili d'epoca barocco Luigi XIV o un fratino perché gli manca la cultura quella che non può comprare e il gusto è il risultato di secoli di cultura e allora questo ci manca quando voi vedete una macchina straniera bella l'ha disegnata o un italiano o uno straniero che è stato alla scuola di Pinfarina di Zagato di Bertone o al Politecnico di Torino o di Milano e allora secondo me bisogna ripartire da qui ripartire dal gusto dall'unica cosa che gli altri non sono riusciti ancora a copiarci per poter rinascere per poter ripartire come Italia perché purtroppo ai noi voi vedete ci stanno comprando tutto tutto ciò che che è marchio che è brand ce lo stanno comprando se lo stanno prendendo stanno facendo shopping cinesi indiani americani tedeschi e bisogna dire dottor Gratteri che paradossalmente noi italiani siamo proprio gli unici a non godersi l'italianità a 360 gradi quindi nella moda nello stile di vivere e in qualsiasi cosa stiamo perdendo veramente un pochino un pochino la bussola non è un periodo certamente dei più felici della Repubblica però la cosa che voglio dire perché io sono qui perché io continuo a fare questa vita perché io sento dentro che volendo è possibile il giro di boa cioè è possibile non sprofondare ancora è possibile altrimenti io non sarei qui altrimenti io avrei lasciato il lavoro che faccio io ho la possibilità di fare tantissimi altri lavori ma io amo in modo viscerale questo lavoro amo in modo viscerale la terra la mia terra e io penso io sento che possiamo cambiare io tre anni fa meno di tre anni fa sono stato mandato alla procura distrittuale di Catanzaro non è che c'erano cinque procure distrittuali c'era Milano Genova Bologna Catania Catanzaro qual'era quella più sfigata Catanzaro io l'ho mandato a Catanzaro ma sono felice perché perché io da un posto disastrato ho costruito sto costruendo una grandissima procura dove ha abbiamo triplicato i risultati triplicato il lavoro ma abbiamo fatto una cosa importantissima a Catanzaro che la gente nemmeno sa dove è Catanzaro o dove era Catanzaro ho fatto una piccola rivoluzione nel Calabria e due milioni di abitanti io ho competenze su un milione e mezzo di abitanti sono sulle quattro province tranne Reggio Calabria sapete che rivoluzione ho fatto ho convinto la gente che si può cambiare i calabresi non sono omertosi i calabresi non sanno con chi parlare allora io ho creato uno spazio ho creato uno sportello io ogni settimana dalle 13 dalle 14 fino alle 9 10 di sera incontro gente incontro usurati estorti funzionari impiegati della pubblica amministrazione che subiscono vessazioni che subiscono angherie e io parlo con questa gente e questa gente denuncia e nelle stanze al fianco c'è un tenente colonnello dei carabinieri c'è un colonnello guardia di finanza c'è un dirigente e una squadra mobile che poi secondo le tipologie reato li smisto e abbiamo creato questo sportello che avvicina la gente ci sono migliaia di migliaia e migliaia di persone che credono in me che credono in noi in questo progetto che sono convinti che può cambiare che aspettano già siamo in Calabria in una nuova primavera in un nuovo cambiamento tutti ci stanno credendo e ci stiamo muovendo è possibile io la cosa che vi chiedo è di non rassegnarvi assolutamente di essere convinti che ce la possiamo fare però è possibile solo partecipando io dico ai calabresi io non voglio che voi venite a mettere la vostra a mettere a repentaglio la vostra vita denunciando non dranghetista anche se lo stanno facendo c'è gente che viene a denunciare capi mafia poi gli facciamo il programma di protezione li tuteliamo e ci mancherebbe altro la cosa più importante però io dico a tutti i calabresi e incomincio a dirlo agli italiani una volta che sul territorio arrestiamo 80-100 persone puliamo derattizziamo un territorio poi la cosiddetta società civile deve occupare quegli spazi la società civile deve andare sul campo deve creare associazione deve fare volontariato si deve impegnare in politica ma deve occupare quegli spazi che noi togliamo alla mafia perché se noi se noi lasciamo libero quel territorio sarà occupato poi dai figli o dai nipoti quindi è importante essere presenti partecipare alla vita sociale non basta solo lavorare pagare le tasse o per chi è credente andare in chiesa la domenica bisogna fare di più bisogna fare qualcosa in più bisogna allenare i bambini i figli al volontariato voi ragazzi dovete andare nei centri per tossicodipendenti per vedere lì la sofferenza il dolore e poi quelle discussioni stupide sulla legalizzazione o meno della marioana andate a parlare con i tossicodipendenti e vedete cosa vi dicono non con i filosofi della televisione quelli che non sono mai entrati che non sono mai sporcati le mani ma hanno fatto sempre i teorici del tutto e allora incominciate ad impegnarvi andate negli ospedali geriatrici dove ci sono i vecchi abbandonati dai figli egoisti andate a trovare quei vecchi state dieci minuti un quarto d'ora davanti al letto di un vecchio che non parla con nessuno da giorni quello non è solo un atto a genosità nei confronti di quel vecchio ma vi aiuta a formarvi vi aiuta a crescere vi forgia vi fa capire la durezza della vita perché io quando piange un bambino quando piange una donna quando piange un ragazzo sì mi dispiace ma non è un dramma non è la fine del mondo io divento veramente triste mi dispiace tantissimo io non sopporto vedere i vecchi piangere quando un vecchio piangere vuol dire piange vuol dire che è arrivato alla convinzione della tormentazione lui sta per morire e la sua vita è fallita non ha nulla perché solo in quel letto e allora voi soprattutto voi ragazzi partite da qui fate questo esperimento andate nei centri per i tossicodipendenti andate da chi ha bisogno e vedete come tornate cambiati e vedete se poi siete incominciate a pensare ad altro non pensate alle scarpe da 300 euro o al telefonino da 700 euro incominciate a capire che sono altri i problemi della vita i piaceri della vita la soddisfazione della vita preparando l'intervista al dottor Gratteri e poi apro e chiudo una parentesi se vorrà parleremo anche di un di una questione molto importante all'interno dell'andrangheta quello che volete io sono qua stasera quindi possiamo stare quanto volete noi la ringraziamo la teniamo qui tutta la sera lei ha parlato dei giovani innanzitutto vorrei far notare come la lotta è fatta alla mafia è fatta non soltanto del rifiuto della mala vita che è sempre un cattivo affare ma è fatta anche proprio di praticità quotidiana il dottor Gratteri dice incontrare gli anziani andare a vedere i tossicodipendenti toccare con mano i problemi per uscire da una realtà virtuale che ci ha completamente inglobato ed è proprio questo quello a cui voglio arrivare perché i giovani soprattutto i più giovani oggi sono sottoposti a una tempesta mediatica che ahimè si è trasformata in una spettacolarizzazione del crimine non voglio citare serie precise e lungi da me citare Gomorra però mi viene da dire e questo lo dico se mi permettete da regista guardando Gomorra non ci sono figure positive quindi l'immedesimazione è costretta a finire sopra un cattivo e questo che effetto può fare su un ragazzino di 8 anni 10 anni perché poi ci sono delle delle città al sud dove i bambini a 6-7 anni vivono già per la strada perché hanno magari già tanti problemi e hanno già una vita da adulto e questi bambini poi emulano quello che vedono anziché crescere col mito di Achille crescono con il mito del padrino questo è un problema antico che parte per lo più dalla cinematografia passando da Scarface dal padrino da tanti film però negli ultimi anni questo problema ha preso una piega veramente pericolosa mi fa piacere che hai toccato questo punto noi abbiamo scritto un libro proprio col professor Nicaso sugli effetti della cinematografia delle fiction dei film che narrano di mafia perché ci siamo interessati di questo tema perché noi riteniamo fondamentale tutto il nostro lavoro fatto col professor Nicaso e quello che io faccio quando posso di pomeriggio io vado nelle scuole a parlare ragazzi vado a spiegare ragazzi nelle scuole di pomeriggio però che la mattina cerco di non contribuire a non fare scuola ai ragazzi e loro vado di pomeriggio e cerco di spiegare la non convenienza delinquere abbiamo scritto questo libro perché abbiamo visto che negli ultimi dieci anni c'è stata una forte accelerazione di film e di docufilm o di fiction che spettacolarizzano le mafie o meglio non le mafie la criminalità organizzata la criminalità comune il gangsterismo e ogni serie televisiva l'anno dopo le scene sono più violenti rispetto all'anno prima perché già ci siamo a suoi fatti all'anno prima e poi vediamo queste stesse scene ripetute dai ragazzi nelle scuole medie davanti alle scuole allora noi ci siamo permessi in questo in questo libro di scrivere che una persona che si definisce di cultura o una persona che ama l'Italia o una persona che ama soprattutto i giovani soprattutto e la formazione dei ragazzi si deve preoccupare poi dell'effetto che quel film ha che quell'opera allora noi siamo stati accusati di voler censurare la cinematografia di censurare l'arte io mi guardo bene dal censurare niente e nessuno io sono per il massimo la libertà della democrazia fino a quando non disturba l'altro fino a quando non impedisce all'altro di essere libero di vivere in democrazia però io posso permettermi debbo permettermi come cittadino come uomo e come educatore che non ci sia poi se l'effetto della visione di quella serie televisiva e poi la trasposizione sul piano pratico sostanziale da parte di questi ragazzi che diventano violenti come in quel film non perché sono violenti a causa di quel film perché già sono abbastanza nutriti di cultura mafiosa all'interno della loro casa ma quel film accelera accentua esaspera la violenza e la mafiosità e quindi noi non solo ci siamo permessi di criticare ma continueremo a criticare che noi non abbiamo non subiamo il timore reverenziale nei confronti di nessuno noi siamo piccoli così dal punto di vista mediatico però noi quando possiamo diciamo la nostra perché ci preoccupiamo e diventiamo tristi se vediamo un'Italia che è sempre meno competitiva non solo sul piano economico ma anche sul piano culturale perché io quando vado a Bruxelles perché ogni tanto mi invitano a parlare alcuni forse sono anche masochisti perché quando vado a parlare gli dico di tutti i colori e io vedo nei corridoi di Bruxelles dei ragazzi dei giovani dell'est europeo che camminano come le cavallette che parlano quattro lingue e riescono ad ottenere e assucchiare tutti i contributi europei voi vi siete chiesti ad esempio perché oggi vi ricordate 10-15 anni fa quanti polacchi c'erano in Italia i polacchi sono spariti perché oggi ci sono più servizi in Polonia che in Italia se voi andate in Polonia voi non avete idea aeroporti strade ospedali che ci sono ci sono tutti costruiti con vedete all'ingrisso dell'opera e la bandiera d'Europa e noi non riusciamo a spendere i soldi della comunità europea ogni anno li restituiamo e questa è la differenza e questo che non funziona e che non va perché molte volte mandiamo persone non solo che non sanno parlare inglese o francese ma nemmeno lingua italiana senta dottor Gratteri avevamo accennato prima a una delle cose più importanti di cui si occupa purtroppo l'andrangheta che è il traffico di cocaina l'andrangheta è il monopolio in Europa del traffico di cocaina ha dei rapporti incredibilmente privilegiati con i narcos colombiani peruviani e boliviani vorrei citare un passaggio per poi lasciare la parola al dottor Gratteri l'andrangheta si è occupata ha iniziato a mettere da parte i soldi con i sequestri di persone i soldi che venivano che arrivavano dai sequestri di persona venivano poi rinvestiti perché poi nel tempo l'andrangheta è diventata una vera multinazionale del crimine fino a quando ad un certo punto è arrivato il boom della cocaina un po' è arrivato attraverso Cosa Nostra perché la camorra nel frattempo continuava ad occuparsi di sigarette e l'andrangheta che ha un fiuto manageriale unico al mondo oserei dire è riuscita a capire che lì ci sarebbe stato il futuro degli affari per il crimine cito questo dato nel 1974 viene sequestrato un chilogrammo di cocaina a Crotone nel 1975 e parliamo di tempi in cui la cocaina non veniva smerciata quotidianamente nel 1975 due chilogrammi e mezzo di eroina a Siderno che prima era monopolio di Cosa Nostra e poi è diventata monopolio dell'andrangheta quindi vedete già nel giro di un anno dal 1974 al 1975 quale incremento qualitativo e quantitativo c'è stato nel frattempo c'è stato un vero e grandissimo boom siamo passati secondo il World Drug Report dell'Ufficio delle Nazioni Unite il bacino mondiale di consumatori di cocaina è passato nel 2006 da 208 milioni al 2014 con 247 milioni di cui 32 milioni sono cittadini dell'Unione Europea secondo la direzione nazionale antimafia se il trend continuerà in questa maniera nel 2020 si arriverà a 300 350 milioni di consumatori che sono una cifra veramente incredibile ahimè l'uso di cocaina sta arrivando anche alle fasce di età più basse perché la cocaina costa costa sempre meno ci vuole spiegare un pochino come si approccia l'andrangheta al mercato della cocaina come lo gestisce e soprattutto come è riuscita a diventare leader in Europa intanto dobbiamo per capire dobbiamo partire dagli anni 70 per chi ha la metà ricorda che negli anni 70 c'erano anni 70 inizio anni 80 c'erano ancora le ideologie esisteva la destra esisteva la sinistra chi era di destra se gli avessi chiesto quale cantautore gli piace se mi avessi detto cucina la di sinistra se mi avessi detto battista la di destra se io avessi chiesto quale droga consumi se mi avessi detto cocaina era di destra se mi avessi detto eroina era di sinistra se noi fossimo stati negli anni 70 a seconda di come eravate vestiti si riusciva a capire anche l'ideologia politica oggi mangiamo allo stesso modo ci vestiamo allo stesso modo ascoltiamo la stessa musica ci droghiamo allo stesso modo cioè c'è un'omologazione le multinazionali nel corso di questi decenni ci hanno educato al consumo di massa di certi prodotti di certe tendenze di certi comportamenti nel corso dei miei viaggi vi faccio un esempio vi ricordate anni fa c'era Gerry Scotti che faceva la trasmissione di milionario quella stessa trasmissione io l'ho vista in Canada negli Stati Uniti e in Germania cambiava il presentatore e la lingua all'interno di quelle trasmissioni c'era la stessa pubblicità queste sembrano cose apparentemente irrilevanti ma nella sostanza se voi io non sono un sociologo non sono uno studioso non sono un masmediologo però a questo livello riesco ad arrivare a questo livello di analisi riesco a farle e quindi incominciamo negli anni 90 ad avere un consumo di cocaina di massa la cocaina che incomincia ad essere usata anche non più dai ricchi ma anche dal conduttore di treni dal gruista dal muratore eccetera eccetera cosa c'era negli anni 90 perché ad esempio non è stata cosa nostra ad intercettare il business della cocaina perché cosa nostra all'inizio degli anni 90 era in altre faccende affacendate perché allora nella guerra all'interno di cosa nostra hanno vinto i corleonesi con a caporina che era un folle era solo un folle feroce e criminale un pazzo stupido perché un pazzo stupido perché fino a quel momento le mafie hanno sempre cercato accordi con un uomo dell'istituzione lui invece pensava di poter dettare l'agenda allo Stato e quindi ha dato il via allo scontro diretto lo Stato è stato costretto a difendersi lo Stato è stato costretto a reagire e quindi ha mandato in Sicilia di tutto e di più anche il superfluo perché c'era questa guerra perché era in discussione l'esistenza stessa dello Stato ma nel contempo sul piano sociale c'erano dei cambiamenti c'erano dei mutamenti come bene detto lui l'Andrangheta era già ricca aveva già un sacco di soldi provenienti dal traffico di droga e scusate provenienti dal sequestro di persona l'Andrangheta aveva portato a segno centinaia di sequestrati non solo in Calabria ma anche in Lombardia in Piemonte in parte del Veneto dell'Emilia Romagna e quindi pensate che negli anni 75-85 c'era un triangolo di 15-20 km quadrati come Platice e Luca Natile c'erano 6-7 sequestrati contemporaneamente ogni sequestro rendeva mediamente un miliardo e mezzo di lire con questi soldi ognuno si è costruito il palazzotto all'ingresso del paese la macchina di lusso allora le misure di prevenzione non erano evolute come sono oggi ma poi ma poi capiscono c'è una domanda c'è una forte domanda di cocaina l'Andrangheta manda in Sud America in Colombia in Bolivia in Peru dei broker manda le persone a vivere lì per comprare cocaina al prezzo più basso e ancora oggi l'Andrangheta nella foresta amazzonica ha questa leadership riesce è l'unica mafia al mondo che riesce a comprare la cocaina con un principio attivo del 98-99% a 1000 euro al chilo mentre le altre mafie secondo l'ultima riunione che abbiamo fatto a Rotterdam in Olanda eravamo rappresentanti di 140 paesi del mondo e lì tutti i massimi esperti del mondo dalla DEA americana dal BK tedesco da Scott Lagnardi dalle polizie sudamericane tutte le mafie la pagano a 1800 euro al chilo noi abbiamo intercezioni ambientali dalle quali emerge che l'Andrangheta la paga a 1000 euro al chilo anzi l'Andrangheta è stata anche a fare nella produzione della cocaina che ad esempio mi è capitato di fare indagini anche sulle AUC le AUC erano diciamo formalmente diciamo erano erano circa 20.000 erano i paramilitari di destra nati in Colombia nati a Bogotà per fare ordine pubblico per aiutare la polizia e fare ordine pubblico poi si sono messi in proprio poi hanno incominciato a a uccidere prostitute omosessuali e storpi hanno incominciato poi a chiedere la mazzetta ai ai corrieri di cocaina hanno poi incominciato a produrre cocaina e l'Andrangheta è entrata in affari con le con le con le AUC che erano circa 20.000 il capo era un italiano il capo delle AUC il padre era italiano era di Sapri si chiamava Mancuso e la mamma era una columbiana e questo qui l'ho indagato pensate che a questo gli piaceva il Brunello di Montalcino e comprava cento comprava mille bottiglie per volta e quando c'era la trattativa tra lo Stato il governo columbiano il Parlamento columbiano e le AUC per la pacificazione lui è andato tre volte in Parlamento a parlare quando poi l'abbiamo indagato poi è stato arrestato sono riusciti prima gli americani a prenderlo che gli americani sono molto molto forti molto presenti in Colombia perché è l'unico Stato che gli è rimasto in Sud America e e sono riusciti quindi poi ad estradarlo io sono andato a sentirlo e mi ricordo che quando sono andato una delle volte che sono andato a Bogotà vi racconto questo aneddoto andando verso la zona dell'albergo e la zona delle ambasciate la zona ricca mi vedo tanti gipponi blindati e tanti uomini verdi e dico ma che sarà successo chissà ci sarà qualche festa in qualche ambasciata entro nel mio albergo nell'albergo dove io dovevo dormire nessuno doveva sapere dove andavo a dormire io e trovo ancora questi uomini là dentro questi uomini in verde mi chiamano dall'Italia e dicono i dottori i telefoni non parlano più avevamo oltre 50 telefoni lì stiamo parlando di un traffico di 3.500 kg al mese di cocaina che arrivava in Europa una cosa enorme e quando io poi vado a interrogarlo nel carcere di Washington mi guarda e mi dice noi ci conosciamo dico guardi la prima volta che la vedo no dice noi ci conosciamo io sono venuto quella notte che lei è venuto che è arrivata a Bogotà io sono venuto in albergo a vederla perché volevo vedere chi era questo pazzo che veniva dall'Italia a indagare su di me e dico ma scusi ma lei come faceva a sapere che io arrivavo o volevo dice io avevo la fotocopia della sua rogatoria internazionale e lei come ha avuto l'arrogatoria internazionale ci me l'ha data il generale dell'esercito colombiano il generale il mio libro paga lo pagavo io quindi ovviamente io quella sera mi sono sentito un miracolato no? e lui questa persona pensate aveva ammazzato 600 persone aveva ucciso e e quando poi abbiamo fatto queste indagini voi pensate questo vi interessa perché loro stavano durante il periodo della trattativa col governo colombiano lui aveva un appartamento in via Giulia a Roma pagavano 14.000 euro al mese perché chi veniva in Italia poteva andare a vivere lì e voleva comprarsi un paesino qui in provincia di Lucca sapete questi paesi belli che non sono molto abitati e lui stava pensando stava trattando per comprare un intero paese qui in provincia di Lucca per venire 4-5 anni a vivere qui così la gente ora mi è venuta in mente questa cosa questo episodio e per venire qui a vivere tranquillamente mentre loro gli emissari facevano le trattative col governo colombiano poi questa trattativa si è conclusa facendosi 6 anni di carcere non ammettere di aver sbagliato e depostare le armi quindi anche chi aveva ucciso 100 persone faceva 6 anni di carcere e quindi diceva almeno sono finiti i terroristi magari purtroppo attualmente ci sono 10.000 di questi 20.000 che sono passate nelle BACRIM che sono le organizzazioni criminali che continuano a produrre e vendere cocaine ora l'andrangata quindi vi dicevo riesce a produrre la cocaina in John Venture con le organizzazioni criminali con le BACRIM la fa arrivare in Europa tendenzialmente sempre meno dai porti colombiani sempre più dai porti a sud di Colombia Bolivia e Perù in particolare dal Brasile dove c'è il più grande porto del sud America il porto di Santos dal quale porto partono le più grandi navi e poi arriva qui in Italia quando viene sdoganata tra virgolette dal porto costa 30.000 euro al chilo poi quando si arriva a un chilo arriviamo a 50.000 euro quando si apre il pacco e ogni passaggio c'è un'altra organizzazione quando si apre il pacco si comprano 100 grammi di cocaina si mettono 300 grammi di mannite in un bimbi e si fanno 400 grammi di cocaina alla strada ma ormai l'andrangheta è da decenni che non vende più al dettaglio l'andrangheta ha subappaltato le piazze delle grandi città italiane non sono più nelle mani dell'andrangheta soprattutto in Piemonte in Lombardia ci sono molto forti sono i nigeriani molto forti sono gli albanesi sono altre organizzazioni che vendono la cocaina al dettaglio che controllano le piazze che l'andrangheta ormai da tanti anni da decenni ormai non vende più al dettaglio non vende più dopo l'apertura del pacco dal chilo del mattoncino da un chilo tra parentesi lei credo l'anno scorso in una puntata di Piazza Pulita intervistato da Formigli denunciava per la prima volta le nuove commissioni dell'andrangheta con le altre mafie in particolare con la mafia nigeriana e la mafia albanese che sono in assoluto tra le più pericolose del mondo il futuro noi penso ci occuperemo molto in Europa di Albania perché gli albanesi sono molto forti la mafia albanese è molto forte in Albania anche c'è un livello di permeabilità e di corruzione spaventoso un terzo dell'Albania è piantata a marijuana e gli albanesi sono molto forti molto presenti in Olanda al punto che il governo olandese è molto preoccupato al punto che stanno pensando di modificare la legge sugli stupefacenti soprattutto sul consumo e sull'uso e sulla vendita delle cosiddette droghe leggere o comunque in Olanda non è legalizzata la vendita è tollerata che è una cosa diversa cioè è consentito ad alcuni bar di detenere non più di mezzo chilo di marijuana e venderla ma si pensava fosse una soluzione al problema nelle realtà hanno visto che negli ultimi anni c'è stata un forte impennata di reati una forte impennata di criminalità mafiosa ma anche in Olanda e parlavo con esperti e con magistrati olandesi appunto in questo in questo consesso in queste riunioni importantissime sono molto molto preoccupati poi se volete vi vi dico la mia sulla legalizzazione delle droghe così metà di voi mi odierà e si arrabbierà ecco allora guardi prendo la proposta al balzo perché addirittura negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare di follie come la legalizzazione della cocaina c'è stato non mi ricordo se un senatore o un parlamentare era Giacchetti a carta bianca ok ha proposto la legalizzazione della cocaina tanto per per ricordare a chi fortunatamente non è pratico la cocaina quando viene prodotta contiene di tutto candeggina benzina acido solforico ci sono veramente le cose più tossiche del mondo sono dentro la cocaina e forse dottor Gratteri bisognerebbe anche iniziare a pensare a smettere di dividere le droghe fra leggere e pesanti perché la droga è droga spesso si sente difendere i cannabinoidi le canne l'erba l'ascici il fumo però in realtà si fuma per l'effetto che ha addosso non si fuma per un altro motivo l'effetto è sempre negativo allora intanto dal punto di vista scientifico non esistono le droghe leggere e le droga pesante perché la marioana di oggi non è la marioana dei figli dei fiori il THC è molto aumentato è molto più forte e allora vediamo cosa dice questo disegno di legge che sembra stoppengogni tanto sembra che si è lì per approvare questa legge poi per fortuna viene bloccata un paio di volte ci sono ho contribuito pure io a bloccarla mi spiego perché io frequento molto i gentri di ipertossicodipendenti quando posso vado a parlare vado ad aiutare questi ragazzi anche gente di 50 anni io vi assicuro che la cosa più difficile è riuscire a parlare e mi ricordo ero a San Patrignano ogni tanto vado in Umbria vado ad Amelia oppure in Calabria la cosa più difficile per me era io non riuscivo a parlare mi veniva da piangere quando mi trovavo a San Patrignano c'è un grande tendone un grande capannone e là sotto c'erano 2500 persone e c'erano tre generazioni c'erano le mamme di 70 anni i figli di 50 anni e i bambini di 3 anni e mentre io parlavo questa gente piangeva e io per non piangere io ho dovuto alzare gli occhi e puntare un punto nel vuoto perché se no non riuscivo ad andare avanti è qualcosa di terribile perché devasta un'intera famiglia non è solo lui che è drogato e balla tutta la famiglia e questi ragazzi piangendo mi hanno detto e mi dicono sempre dottore faccia di tutto procuratore faccia di tutto per non far passare questa legge noi siamo qua siamo tutti partiti con le canne e allora vediamo cosa dice questa legge la legge dice chi è favorevole vediamo quali sono le argomentazioni per chi è favorevole la legalizzazione della droga dicono se se noi legalizziamo le droghe leggere già è sbagliato dal punto di vista scientifico comunque se noi legalizziamo le droghe leggere allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata cosa rispondo io la legge se la legge prevede che la droga la puoi vendere in farmacia a chi ha 18 anni e ha un certificato medico che attesta la sua tossicodipendenza ma se noi sappiamo in realtà che si drogano i bambini nelle scuole medie i bambini nelle scuole medie che hanno 9 anni fino a 17 anni 11 mesi e 29 giorni dove lo vanno a comprare se non lo possono comprare in farmacia continueranno a comprare nella piazza quindi non allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata seconda cosa se noi legalizziamo le droghe leggere le forze e l'ordine anziché perdere tempo appresso alle dosi di marijuana di acisce possono andare a interessarsi di cose più importanti di reati ben più gravi risposta di grattere l'organizzazione criminale che controlla una piazza si comporta esattamente come un negozio di ingegnere alimentare nel negozio di ingegnere alimentare si vende pane pasta olio aceto sale chi controlla una piazza vende eroina cocaina acisce estese e marijuana se noi togliamo legalizzassimo marijuana e acisce resterebbe eroina cocaina ed ecstasy quindi le forze dell'ordine sarebbero comunque impegnate su quel campo terza osservazione se noi legalizziamo le droghe leggere impoveriamo le mafie togliamo la ricchezza alle mafie risposta di gratteri un grammo di cocaina mediamente costa 50 euro un grammo di marijuana costa mediamente 4 euro l'80% dei tossicodipendenti sono cocainomani meno del 10% sono dipendenti da marijuana da hashish e allora mi spiegate quale sarebbe il mancato guadagno delle mafie in un rapporto 50 a 4 e un rapporto 80 a meno di 10% questa è arittmetica poi in base a chi è favorevole alla legalizzazione delle droghe secondo i loro calcoli la marijuana dovrebbe costare in farmacia 12 euro al grammo io voglio essere più generoso diciamo 10 euro al grammo ma se io al mercato nero la trovo a 4 euro perché la vado a comprare a 10 euro se chi si droga non ha i soldi per comprarsi le sigarette che si compra le cartine col tabacco figuriamoci se va a comprare la marijuana a 10-12 euro in farmacia rispetto a 4 euro al mercato nero quindi sarebbe già fuori mercato a meno che nella finanziaria non mettiamo un paio di milioni per darla gratis per indigenza come reddito di cittadinanza ora cos'altro dicono se noi la droga la marijuana non fa male la marijuana cura la marijuana viene utilizzata in medicina per curare i tumori non è così anche la morfina viene somministrata in medicina che è una droga sostanzialmente e dice ma lei è favorevole per la droga che si usa in medicina certo che sono favorevole se io so che tizio ha un tumore con le metastasi che moreranno prossimo ma io gli do quello che vuole se vuole fare petrolio iniettare petrolio cocaina eroina quello che vuole gli do tutto ma io non posso legalizzare un qualcosa dove un bambino di otto anni di nove anni dieci anni può pensare che se è illegale non fa male quindi è una cosa che si può accettare che si può fare e allora noi dobbiamo cercare di essere più seri cioè di non sbracarci scusate la volgarità scusate il termine cioè di non lasciarsi andare perché l'uso sistematico della marihuana porta alla riduzione della corteccia cerebrale lo spessore della corteccia cerebrale che è la parte del cervello dove risiede la memoria e voi vedete che i ragazzini sono nell'età evolutiva come cresce il corpo come cresce un braccio una gamba cresce anche il cervello e loro voi capite all'età di 10 anni 12 anni quest'uso sistematico di marihuana cosa porta vedete queste ragazze alle 10 di mattina che sono intontiti come dei pugili suonati perché porta l'uso della marihuana a dimenticare quello che si è fatto il giorno prima la sera prima porta ad uscire dalla realtà allora io combatterò con tutte le mie forze contro la riduzione perché sono cose molto più importanti più seri in Italia preoccuparsi e mai spendere più soldi per i centri per le comunità terapetiche aiutare il disagio fare una scuola a tempo pieno fare una scuola anche di pomeriggio dove di pomeriggio sono altri insegnanti che aiutano i ragazzi a fare i compiti che aiutano i ragazzi a leggere un libro a leggere un giornale a vedere un film che fanno altre cose perché purtroppo i nostri figli se sono di una famiglia mafiosa tornano a casa e se non tornano di quella cultura mafiosa se sono di una famiglia normale sono figli di internet non sono più figli nostri e quando noi ci siamo accorti che li stiamo perdendo cerchiamo di comprarceli comprandogli cose che noi non ci potremmo permettere pur di avere 15 secondi 20 secondi del loro sorriso della loro attenzione e lì abbiamo capito che abbiamo perso i figli perché noi genitori la verità è che siamo molto più egoisti rispetto ai nostri genitori perché una mamma 50 anni fa curava educava i figli e li seguiva e voleva sapere quando uscivano dove andavano chi incontravano e quando tornavano gli dovevano dire che cosa avevano fatto oggi no il bambino no che si si disturba che è sensibile che deve andare dallo psicologo quando avevo io 10 anni con un cazzotto mi facevo girare tre volte ora non fai tempo a sgridarlo che quello chiama il telefono azzurro cioè stiamo perdendo stiamo perdendo la realtà e questi figli stanno diventando i figli di internet stanno diventando scemi che non fanno niente non studiano non lavorano vai a prendermi una bottiglia d'acqua il ragazzo è stanco ma io a 6 anni andavo in posti dove l'asino non riusciva ad andare e prendevo sulla testa una balla di fieno e la portavo al punto dove l'asino poteva arrivare alle 4 di mattina dalle 2 e mezza alle 6 di mattina andavo a fare il panettiere e poi durante il giorno facevo il muratore e portavamo i mattoni a spalla al terzo piano al quarto piano e lo facevamo tutte le state a lavorare e poi con quei soldi ci compravamo il motorino ci compravamo i vestiti ci compravamo quello che ci faceva oggi assolutamente il bambino ha studiato tutto l'anno non può lavorare ma noi lavoravamo fino alle 9 di sera e siamo cresciuti bene ma tutta questa sensibilità ora è arrivata una volta eravamo scemi quindi svegliamoci incominciamo a reagire incominciamo a prendere posizione incominciamo a crescere e finitela di essere più protettivi andate a scuola solo se c'è un insegnante pedofilo o se c'è un insegnante ignorante che non conosce la materia ma non andate mai a scuola perché viene il figlio che hai se ti vedo disimbronciato ti vedo dispiaciuto che è successo io meritavo 7 la maestra mi ha dato 6 il giorno dopo partono i genitori armati di Kalashnikov entrano a scuola dove la maestra la direttrice la direttrice non è ben attrezzata superenza dal panico trova questa maestra le fanno il processo per direttissimo alla maestra lì perché se permessi di dare il voto non capendo quello lo fanno i genitori per 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 comprarsi i figli perché già i figli li hanno persi ma non è quello il modo di amare i figli lasciate gli insegnanti fare gli insegnanti direi che l'osservazione del dottor Gratteri descrivono anche direttamente e indirettamente una società che ormai più che insensibile è estremamente fragile è diventata schizofrenica ed è una debolezza sulla quale la criminalità organizzata preme moltissimo per aumentare il proprio giro di affari alimentando ulteriormente questa fragilità senta dottore velocemente e siamo in chiusura lei ha accennato prima al rapporto che c'è tra stato e criminalità che è un rapporto che purtroppo a volte è un pochino troppo promiscuo anche in Italia succede a volte che persone che dovrebbero essere consegnate a vita a 41 bis e poi non scapperà dalla mia domanda sul carcero stativo è successo che alcuni personaggi dell'elite dell'andrangheta come un broker che si chiama Roberto Pannunzi abbiano fatto un pochino mio cliente suo cliente e ha fatto un pochino tutto quello che poteva per continuare indisturbato a fare gli affari propri finché poi insomma ha trovato il muro Nicola Gratteri ci vuole spiegare un pochino di cosa si occupava questa persona e in particolar modo come è riuscito incredibilmente ad evitare il carcere che per tanti anni per tante volte sì allora questo Pannunzi Roberto era un broker dell'andrangheta uno che movimentava da 3.000 a 5.000 kg al mese di cocaina voi pensate che quando io passavo dall'aeroporto di Eldorado a Bogotà mi perquisivano avevo trovato in una campagna un vassoio di legno fatto a mano e quelli me lo volevano rompere che dice che dentro c'era la cocaina e io dicevo che ero un fiscal che era venuto dall'Italia a fare indagini e Pannunzi mi diceva che lui entrava e usciva dall'aeroporto senza controlli perché il direttore era nel libro paga allora lui viveva in Colombia e viaggiava sempre con una valigetta 24 ore piena di soldi quando veniva fermato lo fermava qualcuno perché noi abbiamo seduto l'intercettazione che lo avevano fermato lo avevo controllato e poi ma chi vi ha fermato l'esercito quello dell'esercito e io gli ho dato una valigia di soldi e mi hanno fatto andare dice se poi non bastava questa valigia io avevo un salvavita ecco si è un salvavita avevo un diamante appeso al collo e se non bastava mi toglieva il diamante glielo dava e mi facevano passare gli ho detto guardi voi da qui non uscite più dal carcere perché lui aveva già scontato 16 anni e mezzo di carcere più con la mia indagine avrei preso altri 30 avete 60 anni morirete in carcere no dottore io esco ma come fate ad uscire no io esco lui era fidanzato con una ragazza di 24 anni una bella ragazza e quando è stato arrestato diceva che era malato dal cuore e che quindi lo visitano fanno delle perizie delle consulenze e da queste consulenze emerge che aveva questa malattia al cuore e quando il giudice lo stava per mandare agli arresti domiciliari per operarsi e gli dico guarda che non è malato di cuore questo è fidanzato con una ragazza di 24 anni e ti assicuro che non è malato di cuore non mi credeva gli mando siccome ha messo un'intercezione ambientale nella stanza da letto gli mando pure il cd dico guarda che non è malato di cuore è malato di cuore lo fa uscire esce va in una clinica a Roma per operarsi al cuore dopo un poco evade evade impieghiamo un anno un anno e mezzo per catturarlo lo catturiamo a Madrid mentre andava a casa di una contessa lo catturiamo viene in Italia stessa cosa no io esco no io esco io esco e esce di nuovo con la stessa cosa e il medico il giugno di sorveglianza lo manda di nuovo gli allo stomiciliari evade nuovamente e se ne va in Sud America impieghiamo un altro anno e mezzo per catturarlo e lui viveva nelle città di Cucuruto al confine tra Venezuela e Colombia in Venezuela non possiamo andare che ci ammazzano se ne venezuela nessuno può entrare in Venezuela nessuno nel mondo occidentale e quindi lui di giorno veniva in Colombia a trattare per la cocaina di notte stava a Cucuruto comunque riusciamo a catturarlo in un grande supermercato lo catturiamo la prima cosa che fa offre 5 milioni di euro per liberazione siccome avevo mandato gli uomini giusti niente da fare io quel giorno quando è stato catturato mi trovavo in Montenegro per un altro rogatore internazionale e quindi in contatto con le autorità riesco a ottenere invece della estradizione l'espulsione perché l'espulsione vuol dire che tu entro 48 ore devi uscire dal territorio di quello stato l'arrogatore internazionale vuol dire mesi 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 quindi riusciamo siccome avevo buoni rapporti con l'ufficio immigrazione di Bogotà riesco a farlo mandare sul primo aereo con scalo a Madrid a Madrid mi preoccupo ho detto puoi vedere che questo dice che si sente male e lo perdo in Spagna quindi mando in Spagna arriva all'aeroporto di Fiumicino io intanto dal Montenegro torno in Italia e mi fermo a Fiumicino e come tutte le persone importanti vado sotto l'aereo ad accoglierlo prendo un pullman di quelli che ci portano dal gate all'aereo e andiamo sotto l'aereo a ricevere questa grande personalità dico buongiorno Pannunzi come state? bene ho trattato bene sì il viaggio è andato bene ok andiamo e ce ne siamo andati al carcere quindi andate al 41 bis e ora è al 41 bis e speriamo che ci rimanga no ci rimanga perché lui sa fare solo questo vendere cocaina ma poi è una persona anche simpatica è un personaggio intelligente brillante cioè non è che era un rozzo era uno che discuteva con gente al di sopra delle nostre non vi dico chi ma al di sopra delle nostre teste va bene senta dottore un'ultima domanda negli ultimi mesi c'è stata una grossa polemica sul carcero stativo sul cosiddetto carcero stativo ovvero il carcero stativo il 41 bis è un carcere a regime durissimo che non permette ai mafiosi in sostanza di poter godere di permessi di poter fare la bella vita in carcere come spesso succede tanto per ricordare alcuni nomi al 41 bis ci sono Leoluca Bagarella di Cosa Nostra Francesco Schiavone della Camorra Michele Zagaria della Camorra ancora Raffaele Cutolo della NCO Domenico Girolamo Molè dell'Andrangheta Nadia Lioce delle Brigate Rosse Roberto Morandi delle nuove Brigate Rosse e c'è anche Giovanni Brusca che insomma si calcola che abbia ucciso tra le 150 e le 200 persone oltre ad essere l'esecutore materiale dell'uccisione di Giovanni Falcone e della scorta negli ultimi tempi Brusca l'avvocato di Brusca chiede gli domiciliari per Brusca e uno si dice come è possibile che un mafioso che abbia fatto compiuto commesso tutti questi reati possa andare a domiciliare se non che a un certo punto arriva dopo una sentenza della Corte dei Diritti Umani di Strasburgo arriva una sentenza della Corte Costituzionale che dice anche nel caso in cui non ci sia collaborazione con la giustizia il carcere duro è considerato come tortura quindi anche i più efferati criminali e mafiosi devono poter godere di permessi premio ora questa cosa è stata un pochino destabilizzante non si capisce se sia un estremismo progressista o se sia forse qualcosa che mi permetta la domanda nasconde qualcos'altro lei che cosa ne pensa allora io dico per quella che è la mia conoscenza io faccio il magistrato dall'86 e prima ancora di fare il magistrato dell'86 sono un figlio di sono nato in Calabria a Gerace un paesino della Locride e mentre andavo a scuola nella scuola media a Locride con l'autostop ho visto per strada molti morti ho visto davanti a scuola i figli degli indranghettisti comportarsi da piccoli indranghettisti quindi conosco bene la filosofia criminale dell'andrangheta prima ancora di fare il magistrato e per quello che è l'esperienza della mia vita io vi posso dire che un mafioso finisce di essere mafioso quando muore forse quando collabora quando diventa collaboratore di giustizia non ho detto quando si pente perché la legge non prevede che Tizio si debba pentire la legge prevede che Tizio debba dire tutto quello di cui è conoscenza quindi collaborare con la giustizia quindi non è detto che lui si è pentito di ciò che ha fatto ma ha fatto un calcolo di convenienza dice io collaboro io dico quello che so e in cambio esco dal carcere o vado agli arresti domiciliari comunque ho la possibilità dopo un po' di tempo di rifarmi una vita allora detto questo un mafioso un capo mafia soprattutto se non ha collaborato soprattutto se non ha dato segni di cedimento nella logica mafiosa merita rispetto quindi i suoi desiderata virgola se possibile virgola devono essere esauditi quindi un capo mafia non è un sollevatore di pesi non deve fare pentatron per essere pericoloso un capo mafia è pericoloso solo per il fatto che è vivo solo per il fatto che riesce a muovere gli occhi anche se è su una sede rotella è sempre un capo mafia che può dare ordini che può dirigere l'orchestra quindi il legislatore gli ha detto ai lavori prima di parlare dovrebbero aver lavorato nella vita dovrebbero aver fatto qualcosa nella vita per accumulare per avere esperienza sul campo rispetto a ciò sul quale vanno a leggiferare su questo bisogna essere seri severi e feroci senza senza mai non fare sconto a nessuno a me non interessa voi potete dire tutto quello che volete retrogrado fascista tutto quello che volete non mi interessa io in coscienza poiché ho dedicato la mia vita a questo lavoro poiché conosco fino al midollo le mafie con tranquillità con serenità affermo questo io sono contrario ad ogni forma di violenza e di tortura io sono contrario ad uno schiaffo in carcere ad uno schiaffo in caserma io sono a che il detenuto non venga toccato con un dito sfierato con un dito perché altrimenti io scendo al suo livello altrimenti io faccio il suo gioco altrimenti lui fa la vittima regge da tutti il repertorio della vittima allora io devo applicare in modo ortodosso le norme non solo il codice penale il codice del progetto penale ma anche l'ordinamento penitenziario in modo ortodosso ma non scherziamo non andiamo a scimmiottare per il complesso di non essere definiti progressisti o democratici eccetera e bla 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 finiamola con questa ipocrisia perché sono poi le stesse persone che si battono il petto che si indignano che vanno ai cortei alle manifestazioni e che fanno e che vanno nei talk show quindi attenzione a non cancellare a non iniziare a mettere in la testa il tarlo per iniziare lo sgrattolamento di 150 anni sì di mafia ma anche di antimafia e questo se se mi consente va sottolineato e rimarcato anche nel ricordo delle migliaia delle vittime della mafia che dopo aver subito la morte devono subire anche l'offesa ma i morti non possono parlare i morti non si possono difendere per questo il mondo e per questo l'Italia è piena di gattopardi noi veramente ringraziamo di cuore con un applauso l'intopulatore della Repubblica di Papanzano Nicola Grazioni auguriamo buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti